Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento con l'informazione del telegiornale di TV City. In apertura parliamo dell'avvio della terza dose della campagna vaccinale a partire da oggi, lunedì 20 settembre, anche nell'Asl Napoli 3 Sud. Non manca il consueto aggiornamento sui contagi nei comuni del Vesuviano, migliora la situazione, ma registrato un decesso a Torre Annunziata. Torniamo a Torre del Greco, fondi in arrivo per chiese e luoghi di culto. Ne abbiamo parlato con la consigliera comunale Alessandra Tabernacolo. Poi gli eventi, prosegue con successo al Museo di Pietrarsa la rassegna Eruzioni del Gusto, promossa dall'Associazione Culturale Oro Nero. Torniamo a Torre del Greco, giovani protagonisti sabato sera a Villa Macrina del Music Summer Festival. In chiusura lo Sport con la Turris, nuova sconfitta in casa per i Corallini. Alleguori finisce 1-0 a favore del Picerno. Questo ed altro, guardiamo i servizi. Al via da oggi, lunedì 20 settembre, la somministrazione della terza dose di vaccino per immunodepressi over 80 nell'Asl Napoli 3 Sud, come annunciato dal direttore generale dell'azienda sanitaria Gennaro Sosto, che nei giorni scorsi ai microfoni di TV City aveva fatto il punto sulla campagna vaccinale. Per le categorie interessate si procederà nel modo seguente. Se non deambulanti, saranno vaccinati presso il proprio domicilio e le RSA. Se deambulanti, invece, potranno recarsi presso i punti vaccinali già operativi senza alcuna prenotazione. Prima di effettuare la terza dose, devono essere necessariamente trascorsi sei mesi dalla seconda. Immunodepressi over 80 in tutta l'Asl Napoli 3 Sud sono circa 14.000. Intanto ieri è stata somministrata la terza dose per tutti i dializzati dell'azienda sanitaria, tutti in un'unica giornata. Raggiunto al momento l'80% della popolazione vaccinabile. L'obiettivo è raggiungere il 90% nel mese di ottobre. I dializzati a Asl Napoli 3 Sud sono circa 900. Le dosi sono state somministrate nei centri dialisi accreditati. Intanto il presidio di Bosco Trecase resta la struttura sanitaria Covid di riferimento dell'Asl, dove al momento, come dichiarato da Sosto, il numero dei ricoverati non è elevato. Spesso, ha poi ribadito il direttore generale, oltre il 90% dei ricoverati non è vaccinato. Purtroppo questa tipologia di utenza accede in ospedale. Migliorano i numeri dei contagi nei comuni vesuviani. Nel comune di Torre del Greco, secondo il bollettino di venerdì sera, si sono registrate 17 nuove guarigioni, certificati invece 9 casi di positività. Continua a mutare dunque il bilancio dei contagiati, con 85 attualmente positivi, di cui 9 ospedalizzati. Nel comune di Torre Annunziata sono stati registrati 13 nuovi casi di contagio nelle ultime 72 ore, a fronte di 228 tamponi processati, con l'indice di positività che si attesta al 5,70%. Al contempo si registrano 15 guarigioni ed il decesso di un uomo di 88 anni. L'amministrazione comunale, afferma il sindaco Vincenzo Ascione, partecipa commossa al dolore dei familiari della persona scomparsa ed esprime loro le proprie condoglianze. Le dosi di vaccino somministrate fino ad ora sono 48.177. I cittadini che hanno ricevuto sia la prima che la seconda dose sono 21.706, 52%, mentre quelli che hanno ricevuto solo la prima sono 26.471, il 64%. Alessandra Tabernacolo, nei giorni scorsi a Palazzo Baronale, un incontro con i rappresentanti di tutte le parrocchie, dei luoghi di culto della città, presto in arrivo dei finanziamenti. Sono dei finanziamenti arrivati dal Ministero della Famiglia che sono stati distribuiti a ben 17 enti di culto sul territorio. Si è inteso destinare questi fondi alle chiese proprio perché potessero fare attività di sostegno a circa 500 ragazzini torresi. L'idea di destinarli alle chiese nasce dalla possibilità anche di ringraziarli per l'attività che hanno svolto durante la pandemia, a sostegno dei cittadini torresi e al soddisfacimento delle loro esigenze. Questi fondi saranno distribuiti e saranno utilizzati per attività di doposcuola, attività di intrattenimento, comunque attività che permetteranno ai ragazzi torresi nel pomeriggio di essere impegnati. Quindi attività ludiche, ricreative, ma in particolare si andranno a selezionare ragazzi più disagiati? Sì, infatti proprio per questo nasce anche l'idea di destinare alle chiese perché rappresentano delle comunità che comunque conoscono le esigenze delle famiglie e hanno anche le capacità di individuare quei ragazzini che hanno più esigenza di essere raccolti e quindi di evitare la dispersione. Quando inizieranno queste attività e per quanto tempo? Le chiese hanno già firmato le convenzioni, quindi partiranno a brevissimo nel tempo di organizzare le progettualità che sono arrivate. dureranno fino al 31 dicembre. È doveroso fare un ringraziamento alla dirigenza che in tempi celeri ha attivato questo bando, all'assessore Graziella Pirozzi e al consigliere Antonio D'Ambrosio che insieme a me ha curato tutto l'iter. Grazie. I sapori delle terre vulcaniche, i vini e l'incontro tra culture differenti a partire dalla tavola alla terza giornata di Eruzioni del Gusto, evento promosso dall'Associazione Culturale Oro Nero dalle scritture del fuoco in corso di svolgimento fino al 20 settembre al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa. Una manifestazione che intercetta flussi turistici in ascesa che si distingue per il suo modo concreto di ripensare lo sviluppo. Una sede prestigiosa, quella del Museo di Pietrarsa, che indica le nuove prospettive di crescita nella zona est di Napoli. Una storia carica di suggestioni, materiali e immateriali. Queste peculiarità consentono a Eruzioni del Gusto di offrirsi al partenariato pubblico come un'opportunità, ha dichiarato l'assessore al turismo della regione Campania, Felice Casucci. Tra gli stand espositivi, vini e cibi delle aree vulcaniche e quelli tipici delle altre zone d'Italia, dove sarà possibile immaginare percorsi enogastronomici nelle aree coltivate a vite. E quest'anno la Toscana sarà ospite a Pietrarsa con una vetrina DOC dedicata alle tradizioni enogastronomiche, culturali e artistiche. L'enogastronomia ha un ruolo centrale nel nuovo piano regionale per il turismo, che punta ad un'accoglienza più organizzata e coinvolge in misura maggiore le aree interne. Un settore, ha sottolineato il Direttore Generale Politiche Culturali e Turismo Regione Campania, Rosanna Romano, che è la sintesi delle eccellenze ambientali e delle risorse umane del nostro territorio e comprende perfettamente le rinnovate esigenze di un turismo sicuro, sostenibile e eco-compatibile. La nostra cultura enogastronomica è oggi protagonista nell'attrarre flussi turistici in tutte le stagioni. I prodotti campani rappresentano spesso il modo migliore per alimentare e diffondere l'immaginario turistico della regione. La promozione, ha concluso il Direttore Agenzia Campania Turismo Luigi Raia, e il marketing territoriale non possono prescindere dall'esaltazione dei sapori di un'alimentazione sana e gustosa che rappresenta al contempo il nostro migliore spot e la più efficace misura della qualità dell'offerta turistica della campania. Giovani talenti, protagonisti a Villa Macrina. Dal canto alla danza, dal teatro alla comicità. Grande successo di pubblico e partecipazione per il Summer Festival. Abbiamo sempre creduto e puntato sui giovani. Non è mancato il applauso del consigliere comunale Michele Langella sabato sera nell'arena di Villa Macrina per lo spettacolo organizzato dal 18enne Giorgio Cropano. Giorgio Cropano, facciamogli un applauso. Questo ragazzo con molto coraggio perché è la prima volta che organizzavo un evento per il Comune d'Ore del Greco è venuto al Comune da solo. Il Comune di Dio mi voglio mettere in gioco. Voglio fare qualcosa per la mia città e per il gioco. Noi, come ha detto il sindaco e come ha detto l'assessore Pensati abbiamo sempre voluto puntare sui giovani. E quando ci siamo trovati a collaborare con Giorgio e con tutti questi splendidi ragazzi non abbiamo avuto neanche un minimo dubbio. Quindi Giorgio, il mio ringraziamento al nome dell'amministrazione comunale va a te e tutti questi splendidi giovani artisti per questa serata e le serate che hai fatto qui a Villa Macrina con la speranza di poter continuare insieme su questo percorso artistico. Un abbraccio forte e vi auguro a tutti. Grazie. I giovani protagonisti si sono fatti conoscere e apprezzare in diversi ambiti artistici. All'evento erano presenti anche il sindaco Giovanni Palumba e l'assessore Enrico Pensati. Grazie è una parola piccola e semplice che però esprime in sintesi tanto quando, come nel mio caso, sgorga spontanea dal cuore. Sono le parole cariche di emozione del direttore artistico a conclusione della serata. Oggi mi servirebbe però un grazie gigante, enorme perché sono tantissime le persone a cui devo molto ma in particolare devo ringraziare il comune editore del Greco e il consigliere Langella che mi ha affiancato e ha creduto in me sin dal primo momento e nei giovani che si sono esibiti sabato sera. Il mio obiettivo è quello di lasciare un segno nei giovani e far capire loro che il futuro appartiene a noi, appartiene a tutti quelli che credono nella bellezza dei propri sogni. Sono sempre pronto a mettermi in gioco, soprattutto per la città che amo. Grazie di avermi fatto vivere questo sogno diventato realtà. Ha concluso. Non sono mancati ringraziamenti allo staff e a tutti gli artisti che si sono esibiti. Giorgio Cropano, Carmen Beducci, Chiara Mennella, Daniele Langella, Davide Giobbe, Sara Angelotti, Serena Ascione, Anna Laura Sorrentino, Vittorio Falcini, Rosanna Abilitato, Elisa Pontillo, Claudia Cozzolino, Anna Elisa Cropano, Iglem, Mirko Emanuelellele, Anna Pia Lamberto e Giusi Delbi. La Turris si sgretola nei minuti finali ed esce sconfitta per 1-0 tra le Muramiche contro un picerno pratico e quadrato. I corallini partono subito col piede sull'acceleratore, pronti a fare la partita e nei primi minuti costruiscono diverse azioni con conclusioni dall'Inite da parte di Tascone e Leonetti, che a quindicesimo calcia debolmente da posizione favorevole. Al ventesimo ancora la Turris rendersi pericolosa con Tascone, che si inserisce in aria, riceve la palla e calcia a botta sicura, ma il portiere Lucano Albertazzi si fa trovare pronto. Dopo il forse iniziale, il Picerno cerca di organizzare qualche sortita offensiva nei minuti finali con Vivacqua e Carrà, che impegnano non poco il portiere Corallino Perina. Nella ripresa gli ospiti partono con un cambio, Reginaldo per dettori, ma la musica non cambia con la Turris a dettare il ritmo. Entra Franco per dare più fluidità alla manovra. Al quattordicesimo Tascone con un tiro dal limite colpisce la traversa e poco dopo manda alto un tiro dall'interno dell'aria. Ancora un altro legno colpito da Varutti, che si inserisce di testa su assist di Giannone. Nella seconda metà del secondo tempo la Turris inizia ad allungarsi e non riesce a creare azioni degne di nota. Al quarantaduesimo il Picerno passa. Il portiere Corallino non può nulla sul tiro al volo del neo entrato Setola, che sigla il gol vittoria su assist pennellato da Reginaldo. Finale acceso sia in campo che fuori, con i portieri Perina e Viscovo espulsi e con qualche mugugno dalla tribuna. Con questa notizia si chiude anche oggi questa edizione del nostro TG. Vi ricordo che per info e segnalazioni potete inviare un'email all'indirizzo redazionechiocciolatvcity.it o chiamare al numero 340 6561 484. Con questo è veramente tutto. Arrivederci a domani. Grazie a tutti.